Ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo. Diamo insieme uno sguardo alla giornata di sabato che vedrà ancora ombrelli a portata di mano specie tra mattinate e primo pomeriggio sull'angolo nord occidentale Liguria a parte di Toscana e Sardegna ma poi piano piano sarà netto il miglioramento anche qui entro la serata con clima più asciutto si attarderà solo qualche acquazzone qui con i colori blu solamente sull'isola la Sardegna altrove invece debole anticiclone quindi un graduale miglioramento e difatti la mappa della nuvolosità ci conferma delle schiarite già in avanzamento al nord est ma poi dal pomeriggio su molte zone settentrionali anche la mappa dell'Italia guardate clima nel complesso asciutto su molte regioni non solo nord orientali ma anche tutto il centro sud ultime riside piogge solo al nord ovest Sardegna temperature non fredde per il periodo per venti ancora di scirocco aggiornamenti sull'app di Trevi Meteo